Amici del Bardo, bentornati alla prima stagione di 21 giorni di noi. Oggi il tema è se poteste guardare solo i match di un tag team esistito, quindi non inventato, del passato o del presente, chi scegliereste? Avanti, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E ricordatevi che 21 giorni di noi torna domani, come sempre, alle ore 15.